Buongiorno, bentrovati, benvenuti a Occhio ai Giornali, la rassegna stampa che tutte le mattine alle 7 puntualmente apre la giornata dell'informazione ma anche la vostra giornata immaginiamo e quindi siamo qui per mostrarvi le notizie principali sul resto del Carlino, Corriere Adriatico in edizione locale ma noi guardiamo anche che cosa ci dice il calendario con il santo del giorno ma anche le previsioni del tempo quindi facciamo le cose con ordine, partiamo subito con la grafica che riguarda il calendario, oggi è sabato 16 novembre, Santa Gertrude, il sole è sorto alle 7.01 e tramonterà alle 16.43 previsioni del tempo che non sono, almeno come vedete dalla cartina della protezione civile delle marche, delle migliori per oggi, insomma il sole non compare per niente solo nuvolosità intensa e piogge e quindi sono date nella parte centrale della giornata e nel pomeriggio dove assumeranno anche carattere di rovescio e di temporale quindi precipitazioni diffuse, precipitazioni su tutta la regione Marche e il cielo è molto nuvoloso e nuvoloso durante tutta la giornata, le temperature saranno in diminuzione soprattutto nei valori massimi per quanto riguarda domani più o meno la situazione è questa, però ci sarà un sole che andrà a farsi largo tra le nuvole nell'arco della giornata a partire dal pomeriggio, quindi la nuvolosità riguarderà la prima parte della giornata e le precipitazioni ci saranno soprattutto quindi nella prima parte della giornata e prevalentemente a carattere di rovescio e di temporale, però per il pomeriggio dovrebbe attenuarsi questo fenomeno, le temperature sono in leggero aumento nei valori massimi vediamo invece per lunedì, ecco sempre all'insegna della variabilità, parzialmente nuvoloso, maggiori coperture nel pomeriggio però ecco che compare la simbologia del sole che fa capolino e che quindi probabilmente in serata ci saranno ampie schiarite e quindi soprattutto nei settori centrosettentrionali della regione le temperature saranno in diminuzione nei valori minimi quindi insomma la prima parte della settimana sarà ancora debolmente instabile, però miglioramenti a partire da mercoledì questa è la previsione in senso generale, quindi insomma avremo un weekend a corrente alternata ma poi dalla settimana prossima perlomeno dovrebbe prendere una china verso il bello guardiamo le pagine, c'è grande risalto all'azione di protesta che hanno incentrato su molte città i vigi del fuoco e quindi apriamo con la pagina di Ancona che però fa un'altra apertura, la fotonotizia è per la cronaca furti e raffica in seguimento da film dei carabinieri in pieno centro e caccia al ladro ma poi c'è l'amianto killer che riceve naturalmente un milione di euro per quanto riguarda la richiesta del giudice invece come risarcimento alla famiglia di un operaio che morì per mesotelioma, fincantieri e rete ferroviaria italiana condannati dal giudice e poi tra Ancona e Osimo c'è una rissa in un pub un giovane è stato arrestato, lascia il posto alla nostra amica ed è subito rissa invece nelle pagine di Macerata ecco come vi dicevo fotonotizia per i nostri angeli che protestano perché mantenete le promesse ci dicono, sit-in dei vigi del fuoco, stipendi adeguati e più tutele ma l'apertura è per la Movida che invece riceve una raffica di multe alle auto polizia, carabinieri, vigili urbani, controlli in centro scattano 75 preavvisi per sosta selvaggia e anche la pagina di Pesaro è la fotonotizia tutta dedicata a loro davanti alla prefettura i pompieri in sciopero protesta di fuoco titola il resto del Carlino strada nuova o blocchiamo tutto sono i residenti di Santa Veneranda che esplode la rabbia tra di loro alla vigilia del voto di quartiere le auto ci entrano praticamente dentro casa e poi c'è il proseguo del maltempo la coda lunga del maltempo apre la diga di Mercatale sorvegliato speciale anche il mare per la piena ed eccola qua la pagina che riguarda i nostri vigi del fuoco che protestano per avere pari tutele con gli altri corpi dello Stato tutele e stipendi adeguati visto anche quello che è successo è la morte dei tre colleghi che ha alzato molto la tensione è ora di dire basta e di parificare le nostre condizioni a quelle degli altri corpi dello Stato e quindi tutele pari per tutti questo è quello che chiedono niente di più, niente di meno coloro che spesso cicavano dai guai e quindi è giusto che abbiano un adeguamento paritario siamo stanchi di fare i manichini la rabbia dei pompieri ieri lo sciopero davanti alla prefettura all'incontro con sindaco e prefetto apriamo anche il Corriere Adriatico fondi il porto in cassa un sì questa è l'apertura tesoretto sfiora i 4 milioni ma la fotonotizia è per la restituzione da parte dei caribinieri di un'opera d'arte trafugata a Fossombrone restituita al sindaco la tela rubata la madonna errante torna a Fossombrone 27 anni dopo il furto nella chiesa la consegna da parte dei caribinieri nel comando della compagnia di Fano avvenuta proprio nella giornata di ieri tesoretto per il porto fondi per quasi 4 milioni il sì dell'autorità di sistema e quindi lavori su un arco triennale per dragaggi, vasca di colmata e banchine e quindi questo è il porto di Pesaro ma ieri c'è stata anche la presentazione del calendario ormai è diventato un must averlo un anno da passare insieme all'arma il comandante provinciale Ricciardi ha presentato il calendario 2020 della Benemerita ma c'è cronaca anche nelle pagine del Corriere Adriatico vanno a preparare dolci e pizze e scoprono il passaggio dei ladri furto tra mezzanotte e le 4 la pasticceria Laboratorio San Marco di Piazzale Innocenti ancora nelle pagine sempre del Corriere Adriatico rimaniamo qui si parla di eventi legati al Natale e dell'asso che ha calato Ricci per quanto riguarda la città di Pesaro ruota operatori non coinvolti disagi per la sosta e la viabilità di largo Aldomoro dove dovrebbe arrivare questa mega gigante ruota panoramica della bellezza di 24 metri di altezza e anche il resto del Carlino parla del calendario che narra gli eroi l'arma vicina al cittadino il colonnello Ricciardi che vedete nella foto con in mano l'edizione 2020 dice un documento che entra nel vivo dei gesti quotidiani che facciamo per il cittadino circonvalazione o morte viene da dire qui sono, vedete, radunati i residenti di Santa Veneranda vicino all'arco dove esplode tutta la loro rabbia perché dice ci stiamo organizzando la protesta per l'evento di Candele a Candelara da 60 anni promesse vane o la circonvalazione o blocchiamo la strada perché le auto ci entrano dentro casa praticamente questo è quello che dicono rubano soldi dalla cassa tre colpi di fila nella notte ladri scatenati al ristorante gestito dalla cooperativa Campobase del Parco Mirafiore come abbiamo visto prima alla pasticceria San Marco di Piazzale Innocenti e anche a un ristorante cinese insomma hanno fatto veramente man bassa ma quasi sempre hanno portato via solo il fondo cassa quindi hanno arraffato i primi soldi che hanno trovato a disposizione andiamo nella vallata di Vallefoglia con l'onnipresente sindaco Palmiro Ucchielli la Proloco è pronta alle feste felici di farvi divertire Sodalizio di Montecchio protagonista degli eventi pre-natalizi di Vallefoglia vedete qui una foto molto eloquente l'unico senza cappello da babbo natale è proprio Ucchielli mentre gli altri insomma si sono adeguati all'atmosfera Fano c'è stato il consiglio comunale e ieri e quindi c'è stato un focus su anche la clinica privata nell'articolo di Lorenzo Furlani si fa una bella disanima di tutto quello che è avvenuto in questa seduta e pare che tutto sia rimasto congelato perché il centro-sinistra si blocca la mozione dei Movimento 5 Stelle per la revoca della variante urbanistica quindi salta il piano dei 5 Stelle si mette di traverso il centro-sinistra con i suoi consiglieri però il PD apre e nel fondo dell'articolo c'è scritto il perché a ipotesi future perché pare che la vendita del terreno sia rimandata quindi dopo le elezioni regionali quindi sfuma la vendita del terreno prima delle elezioni così nelle parole del capogruppo PD in consiglio più richieste al centro antiviolenza c'è stata una conferenza in comune dove sono state illustrate le iniziative in occasione del 24 novembre del 25 novembre che è la giornata mondiale per eliminare la violenza sulle donne e quindi c'è stato anche un focus con i dati sono venuti fuori dei dati veramente allarmanti 165 donne aiutate in un anno dal consultorio offanese e in nove mesi sono già arrivate 85 segnalazioni di casi di maltrattamento quindi insomma dati per essere quelli riguardo al consultorio del nostro territorio veramente un dato allarmante si parla anche d'arte e di teatro Turandot l'emozione dell'amore la musica che incanta il pubblico stasera in teatro l'opera di Puccini andata in scena giovedì per gli studenti ma è puro diletto per i nostri orecchi se andate a sentirli dorme tra i rifiuti aiutatemi insomma l'appello di questo senza tetto un tunisino ha occupato abusivamente una casa abbandonata a Cucurano di fronte al centro a anziani ma vive in condizioni pressoché disperate vedete questo il suo giaciglio veramente in condizioni pessime anche qui nelle pagine del Carlino si parla della conferenza violenza sulle donne ora l'età si abbassa sono sempre più giovani le ragazze giovani d'età che chiedono aiuto però una cosa innovativa per quanto riguarda il nostro territorio soprattutto il consentorio della TS6 e della TS7 che c'è un servizio anche di supporto psicologico per il maltrattante l'uomo che maltratta e fa un'azione sicuramente di violenza sia psichica che anche fisica sulle donne però riceve anche un supporto psicologico per una doppia via insomma quindi proteggere e togliere dalla violenza le donne ma anche andare verso una possibile riabilitazione dell'uomo violento si parla anche di digestore l'altro argomento caldo su Fano oltre a Lisippo e Nolfi il digestore va fatto a bell'occhi parola di Carnaroli ex sindaco di Fano un impianto tra le 60.000 e le 80.000 tonnellate sarebbe adeguato dice Carnaroli per i fanesi specie e chiri sedili vicino dovrebbero avere agevolazioni tarifarie questo il Carnaroli pensiero andiamo nella valle la Val Metauro che però si occupa di Fano la pagina del Corriere Adriatico e parla appunto della Madonna Errante del Seicento rubata ed è tornata a casa dopo un ITER lungo di 22 anni restituita quindi al comune di Fossombrone per la fine del processo in Cassazione qui vedete proprio una bella foto dei vertici del comando qui a Fano nel momento in cui viene riconsegnata al sindaco Bonci l'opera d'arte ancora nella Val Cesano si parla a Marotta di una start-up si tratta di Play to Trip una start-up all'avanguardia quindi un'applicazione che è stata ricevuta in regione dall'assessore Pieroni e dal capogruppo Rapa per un'offerta turistica digitalizzata e quindi sta riscuotendo grande successo questa start-up che promuove il territorio e le bellezze del nostro comprensorio onda lunga caso di dire per il maltempo mareggiata il sindaco bussa alla regione ora dichiari lo stato di emergenza Perentorio Barbieri che chiede il sindaco di Mondolfo Marotta un intervento risolutivo per rafforzare le scogliere soffolte vedete qui in questa immagine anche attraverso quelle che vi abbiamo mostrato noi quali erano le condizioni proprio a poche ore dopo la violenta mareggiata ultime pagine vi porto a Urbino task force per l'edilizia si parla del Raffaello e quindi di edilizia scolastica e per l'edilizia scolastica Marche non ha affatto una sopralluogo nella vecchia sede dell'istituto Raffaello di Olfi ieri mattina un ingegnere di questo gruppo di lavoro per quindi fare un focus su quello che serve per questo istituto che è sicuramente un passo avanti rispetto a Fano però sempre per quanto riguarda il nostro territorio lanciato l'itinerario archeologico lo presenta Confcommercio a Pestum che propone agli operatori turistici il patrimonio delle antichità della provincia formidabile abbinamento con Raffaello che fu un innovatore nella tutela pur delle vestigie e il recupero anche di Fano quindi insomma interesse per i bronzi dorati insomma questo patrimonio archeologico può essere un grosso volano per il turismo e per l'economia del nostro territorio Senigallia c'è cronaca il pusher si fa mantenere dal comune il pusher sarebbe lo spacciatore di droga che però è stato preso nel residence con un chilo di droga risultava indigente e aveva ottenuto dai servizi sociali un alloggio gratis nella sua stanza anche 20.000 euro in contante probabilmente dicono gli inquirenti frutto dello spaccio poi guida ubriaco e non si ferma al posto di blocco in seguimento da film dei carabinieri in centro la pagina di Senigallia del resto del Carlino è più o meno uguale a quella del Corriere Adriatico perché si parla appunto dello spacciatore che dice non trovavo lavoro e quindi non ho pensato di meglio di fare che distribuire veleno agli altri e poi appunto la cronaca con i carabinieri che inseguono e bloccano questo 38enne ubriaco che non si è fermato all'alt allora come sempre per coloro che sono arrivati in ritardo vi faccio vedere le prime pagine siamo partiti dalla pagina di apertura del resto del Carlino di Ancona che appunto dice caccia al ladro in seguimento roccambolesco ma c'è il giudice che chiede un milione di euro di risarcimento per l'operaio che morì di tumori per l'amianto fin cantieri e rete ferroviaria italiana condannati dal giudice e poi per quanto riguarda invece le pagine di Macerata e Pesaro grande attenzione grande risalto ai vigili del fuoco ai pompieri che scendono in piazza che dicono basta fare le marionette vogliamo pari equità con gli altri corpi dello Stato quindi mantenete le promesse questo è il loro appello Movida raffica di multe alle auto quindi l'apertura è per la cronaca carabinieri vigili urbani e polizia impegnati in una guerra senza quartiere contro la sosta selvaggia e quindi vi dicevo anche a Pesaro grande risalto al sit-in di protesta davanti alla prefettura dei vigili del fuoco che chiedono appunto ripeto pari dignità con gli altri organi dello Stato ma non si fermano qui perché sono stati annunciati altri scioperi se questa situazione non viene sbloccata e poi i residenti di Santa Veneranda sul sentiere di guerra perché o ci fate la circondazione o blocchiamo tutto quindi ci mettiamo in mezzo e così il dopo mareggiata si tiene sotto controllo la diga di mercatale sorvegliato speciale però anche il mare perché in queste ore è prevista una recrudescenza del clima e vi faccio vedere anche l'apertura del Corriere Adriatico sempre per le pagine che riguardano Pesaro si parla del Porto Porto di Pesaro che incassa un sì tesoretto sfiora i 4 milioni per le opere ma la fotonotizia è per il sindaco di Fossombrone Bonci che riceve dalla compagnia Carabinieri di Fano un'opera trafugata ben 27 anni fa e ritrovata e appunto restituita rimessa a disposizione della comunità bene questo è tutto per questa mattina sabato mattina l'ultima rassegna stampa della settimana questa sera non c'è il telegiornale ormai lo avete imparato ma c'è 7 per occhio il nostro magazine che riassume tutte le notizie principali della settimana l'informazione però torna lunedì mattina alle ore 7 appunto con occhio ai giornali questo è il numero che potete utilizzare comunque sempre H24 siamo sempre acceso questo nostro telefonino per ricevere le vostre segnalazioni e anche se volete entrare in contatto con la nostra redazione bene grazie tempo permettendo buon fine settimana a tutti voi arrivederci a tutti i a tutti i a tutti i a tutti i